Ciao a tutti, sono qua con il maestro, il regista di Suora Angelica al Teatro San Carlo di Napoli. Abbiamo appena finito la prima prova in palcoscenico. Questo video è per Opera Life e vogliamo invitare tutti i giovani a venire all'opera e soprattutto a venire a vedere questo spettacolo che inizia con Goyescas e finisce con Suora Angelica. Vi aspettiamo, nuperosi, non vediamo l'ora che i giovani siano ogni volta più numerosi qua in teatro, quindi l'invito c'è e siamo qua. Vi aspettiamo, vi aspettiamo, vi aspettiamo, poi soprattutto in questo teatro che è il più bello del mondo. Guardate, facciamo vedere un po' di scena, la scena straziante. E poi lei è bravissima. Lui è bravissima. L'opera è stupenda. L'opera in generale è stupenda, sono un'emozione vera. Da esseri umani, va bene che c'è il cinema, ci sono tante cose, giochini. Venite al teatro, ragazzi. Venite, venite. Grandi emozioni. Quando iniziamo? La prima? Iniziamo il 28. Dal 28 in poi al San Carlo di Napoli. Vi aspettiamo. E i tolto i tolto i per Opera Life, in bocca al lupo per questa nuova impresa. In bocca al lupo. Ciao!